di criticità. Hanno partecipato a questo intervento l'Arpa Poglia, l'Arpa Sardegna, l'Arpa Sicilia, l'Arpa Toscana e l'Arpa Veneto, spero di non aver dimenticato. Nessuno. Presentano il lavoro il dottor Ruvolo dell'Arpa Sicilia e la dottoressa Benedettini dell'Arpa Toscana. Buongiorno a tutti. Io inizio questo primo intervento che è un po' un focus sulle attività dell'Arpa partendo dalla prima presentazione che è stata fatta oggi da parte dei colleghi di Ispra perché fondamentalmente e sostanzialmente vuole rappresentare un piccolo focus su quelle attività che sono state illustrate nella prima relazione. Allora, questo è uno schema di massima. Noi poi entraremo un po' più nel dettaglio delle singole realtà delle cinque agenzie che sono coinvolte in questo intervento che hanno tutte e cinque contribuito alla creazione della presentazione complessiva. Questa prima slide fondamentalmente che cosa voleva rappresentare. Voleva sostanzialmente rappresentare in modo grafico quello che è stato detto nella prima presentazione. Da un lato abbiamo tutto quello a cui le Arpa devono rispondere dal punto di vista di direttive comunitarie e non, che sta a sinistra. Dall'altra parte c'è la risposta dal punto di vista analitico di professionalità esistente all'interno delle singole agenzie con le quali in modo sinergico si parte dalle direttive, si monitora tutto quello che c'è a destra e si danno le risposte necessarie a tutto quello che è chiesto. Chiaramente oltre la parte legata alle direttive di cui già si è fatto prima riferimento, c'è la direttiva Acque, la 2060, la direttiva Strategia Marina. Evidentemente ci sono anche tutta un'altra serie di aspetti che sono legati intanto al supporto tecnico legato proprio alle attività di controllo e di autorizzazione in ambito regionale e poi la partecipazione a progetti di vario genere sia per quanto attiene alla Strategia Marina ma più in generale a altre questioni che poi sono tutte qui riassunte nei vari poster che sarà interessante alla fine della giornata vedere e verificare. Allora, mi era sembrato opportuno e questo poi è stato anche condiviso dai colleghi delle altre ARPA perché questa presentazione è stata fatta girare un po' a tutti, sono stato raccolto il contributo di ognuno e poi è stata fatta girare un po' l'impostazione complessiva che facessimo anche un po' vedere innanzitutto e prima di tutto quali sono i mezzo attraverso cui c'è il primo impatto con l'attività del mare. Allora qui c'è la realtà delle cinque ARPA, le cinque ARPA, ARPA Toscana e ARPA Sicilia dispone di mezzi propri, lì sono riportate delle fotografie, le altre agenzie di fatto non hanno delle imbarcazioni proprie però come qualche collega ha evidenziato nella singola presentazione sono state attivate virtuose collaborazioni, mi è piaciuto questo termine quindi l'ho voluto riportare diciamo in questa diapositiva con diversi enti per cui abbiamo da un lato il Veneto che ha virtuose collaborazioni con le direzioni marittime, con la Capitania di Porta e con altre ARPA la Guardia di Finanza per quanto concerne ARPA Puglia, il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per quanto riguarda la Sardegna. Su questo, proprio in questa panoramica però che va un po' più addentro delle attività faccio solo un brevissimo cenno perché sicuramente la dottoressa Ferrari subito dopo su questa questione della strategia marina entrerà molto più in dettaglio ma volevo semplicemente riportare questa diapositiva perché in questi ultimi tre anni sicuramente la strategia marina ha rappresentato un'attività veramente importante e rilevante per le agenzie e non solo per l'impegno lavorativo ma anche per la capacità con cui questa attività è stata impostata, gestita e portata avanti in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Qui vengono indicate con le frecce le cinque agenzie oggetto di questa presentazione però è chiaro ed evidente che è possibile rendersi conto di quale sia la mole di lavoro e l'attività di tutte le ARPA costiere, di tutte le regioni costiere. Sostanzialmente qui cosa riportiamo? Riportiamo da una parte i descrittori, degli 11 descrittori della strategia marina riporto solo i 9 descrittori che sono sostanzialmente stati dati alle ARPA come monitoraggio e i moduli con cui questo monitoraggio è stato realizzato. Non entro molto nel dettaglio dei singoli moduli, entrerà sicuramente la dottoressa Ferrari aggiungo semplicemente, lo riportavo solo per fare l'enorme quantità di attività e di lavoro che è stata fatta, nonché anche la completezza del monitoraggio che ricopre praticamente l'intera costa dell'Italia e poi così come ha brillantemente esposto i colleghi che mi hanno preceduto, in particolare il dottore Tunesi vanno aggiunti dal 2018 anche i quattro moduli a quelli che sono là indicati i quattro moduli relativi alla direttiva habitat e alla direttiva uccelli e quindi integrano ulteriormente questa attività. Scusate, questo è andato avanti. Entriamo un attimo nello specifico, lo specifico però non vuole essere una semplice elencazione di quello che fanno le agenzie perché magari potrebbe anche così un po' annoiare ma fondamentalmente quello che noi volevamo mettere in evidenza è legato a una cosa cioè perché si possa parlare di sistema nazionale di protezione ambientale perché si possa parlare di sistema integrato di risposta delle ARPA non si può non tenere conto di quali siano le realtà singole delle regioni e soprattutto quali siano da un lato le specificità e i punti di forza così come il titolo di questa presentazione ma allo stesso tempo anche quali sono le criticità oggi in atto perché solo mettendo insieme le sinergie di tutti e tenendo ben presente quali sono i limiti che oggi sono presenti in ciascuna singola realtà forse si può andare verso un sistema integrato complessivo. Qui intanto cominciamo col Veneto, il Veneto lì nella slide è abbastanza ben identificato ci sono oltre 150 km di sviluppo costiero, ci sono grosse estensioni di acque di transizione c'è un'alta sensibilità di tipo geomorfologico, ci sono bacini fluviali eterogenei abbiamo apporti di origine industriale, agricola e civile e poi sostanzialmente un'alta variabilità idrometeorologica una tede di pesca ed acquacultura, portualità e forte vocazione turistica è chiaro. Tutto questo cosa determina? Determina un sistema molto complesso che ha parecchie interazioni che rendono molto delicato l'intervento dell'agenzia in questo contesto. Nello specchio, scusatemi, continuo a mandare quella sbagliata Quali sono le attività? Venivano descritte nella scheda iniziale fatta dalla collega acqua di balneazione, qualità ecologica e chimica degli ambienti lagunari acqua a specifica destinazione, strategia marina fino alle 12 miglia interventi di ripascimento, grandi opere in mare, specifiche forme di pressione che insistono sulla costa e gestione di emergenze e fenomeni anomali che possono verificarsi. Qui viene riportata una slide per dare un po' un'idea un'idea che penso ciascun operatore di ARPA ha ben presente ma che comunque è importante farlo rivedere e c'è presente in tutte le presentazioni, in tutte le varie fasi di questa presentazione la mole complessiva del lavoro che viene quotidianamente, annualmente, mensilmente svolto in questo caso abbiamo 6 corpi idrici che significano 76 stazioni di campionamento significano campagne annuali qui nello specifico sono 7 campagne annuali e poi c'è anche uno sguardo sulla classificazione di questi corpi idrici viene fatto anche un cenno sulla direttiva strategia marina ma su cui non mi dilungo perché c'è una presentazione successiva qui parliamo di acqua di transizione che per il vento sono una realtà abbastanza consistente e parecchio variegata anche qui vengono indicati il numero di corpi idrici coinvolti le stazioni, le campagne è una prima classificazione per quanto concerne lo stato ambientale in particolare qui viene anche posta particolare attenzione da parte dei colleghi del Veneto diciamo che per la Laguna di Venezia questa attività viene realizzata in collaborazione con Ispra e con l'Università di Venezia è che molte delle attività sono realizzate anche con il provvedorato interregionale per le opere pubbliche che probabilmente era molto più noto come il magistrato alle acque di Venezia punti di forza e punti di debolezza queste sono quelle cose su cui secondo noi dobbiamo puntare un po' l'attenzione rifacendomi a quello che dicevo all'inizio in un'ottica di integrazione del sistema delle agenzie all'interno di un sistema complessivo di sistema di protezione ambientale e allora Alpa Veneto una realtà una struttura dedicata al mare che opera da diversi anni che ha accumulato una notevole esperienza sia operativa sia di esperienza collaborazioni complessive nell'ambito dei progetti e delle attività che sono indicate sulla slide le rilevamenti in mare che sono direttamente effettuati da Alpa Veneto e una capacità analitica sia per quanto riguarda la parte biologica che la parte chimica di ottimo livello questo vale anche per quanto concerne le acque di transizione e è importante fare rilevare che per quanto concerne le attività di monitoraggio queste sono state finanziate specificamente dalla regione con i fondi della legge speciale per Venezia questo ha potuto consentire così come vedremo anche in altre realtà più avanti di altre agenzie il potenziamento proprio della struttura in funzione delle finalità di monitoraggio a cui è preposta criticità ecco la prima criticità di Alpa Veneto che mette in evidenza è sicuramente la indisponibilità di un mezzo proprio si è fatto fronte con collaborazione con le direzioni marittime con il supporto di altre ARPA però è chiaro che questo comporta evidentemente la necessità di organizzazioni che comportano il coinvolgimento di altri soggetti e quindi da un punto di vista della operatività della struttura sicuramente un rallentamento poi un'altra questione che viene fuori in questa realtà ma vedrete verrà fuori anche nelle altre ARPA di cui tratteremo successivamente è l'implementazione del 172 il 172 del 2015 ha così di botto introdotto tutta una serie di questioni legate sia ai limiti di quantificazione sia alle metodologie da mettere in atto per la determinazione sia per quanto riguarda proprio il metodo di insieme sia per quanto riguarda la matrice da prendere in considerazione che hanno rappresentato e rappresentano una di quelle criticità che deve essere superata nell'arco dei mesi e degli anni a venire in particolare per le acque di transizione una delle criticità è così dalla mancanza di metodiche specifiche per quanto riguarda le acque di transizione per le foci a delta del Po dei cinque rami a delta del Po nello specifico del Veneto andiamo avanti qui diamo un quadro al solito un quadro per quanto riguarda Arpa Sicilia della strategia marina riportiamo al solito le aree, le stazioni i 1500 km di costa della regione Sicilia l'impegno notevole appunto che Arpa Sicilia nonostante disponga di due imbarcazioni come avete visto nella presentazione della collega all'inizio per quanto concerne lo spoggio di tutte le attività quindi sia monitoraggio della direttiva acque sia monitoraggio della strategia ha avuto una necessità di ricorrere al supporto di altre due imbarcazioni per poter riuscire a coprire l'intera costa e tutti i punti di campionamento per cui nel caso specifico del monitoraggio della direttiva quadro abbiamo dovuto ampliare anche questo settore ecco qui niente ci sono i moduli ci sono le aree volevo semplicemente come dire abbiamo semplicemente rappresentato con queste quattro fotografie alcune delle attività che in un certo modo ci hanno coinvolto e di cui siamo anche abbastanza come dire fieri fieri perché perché noi tutto sommato come area mare siamo partiti da poco nel senso che fino a pochi anni fa in Arpa Sicilia le competenze sul mare erano distribuite fra varie strutture mentre nel 2012-2013 si è pensato di poterle di metterle insieme in un'unica struttura e questo ci ha consentito anche attraverso l'acquisizione di personale specializzato in questo settore di poter condurre in proprio tante di quelle attività soprattutto legate alla morfobatimetria alle caratterizzazioni dei vari ecosistemi ma anche al controllo dal punto di vista sia chimico che non per quanto concerne gli impatti industriali e lì in basso è riportata la piattaforma Vega una delle più grosse piattaforme petrolifere di estrazione a mare offshore quasi a 12 miglia per alimentare la 12 miglia di fronte Pozzallo che ci hanno praticamente coinvolto direttamente quelle sono immagini di marra a destra ustica e di vari tipi di corallo a marettimo che abbiamo fatto direttamente noi in proprio strumentazione nostra e personale qui un rapido flash sulla direttiva 2060 anche qui abbiamo 30 corpi idrici da monitorare abbiamo dovuto affrontare una situazione complessa perché per diversi anni la Sicilia non ha monitorato aveva un piano di gestione complicato che prevedeva il doppio dei corpi idrici che sono qui indicati che abbiamo dovuto rimodulare complessivamente con la regione e col ministero insomma adesso abbiamo 30 corpi idrici questi 30 corpi idrici sono regolarmente monitorati e lì abbiamo al solito tutto quello che viene fuori diciamo in termini di stazione di campionamento di vari ecosistemi che andiamo ad analizzare ecco qui riportiamo un'immagine cioè riportiamo tre immagini fondamentalmente legate allo stato attuale che sono quelle diciamo in chiaro e quella lì in scuro quella in scuro è la situazione del 2012-2013 noi a quella data avevamo caratterizzato dal punto di vista della caratterizzazione ambientale solo i corpi idrici che come vedete sono molti di più rispetto a quelli attuali sono circa il doppio del canale di Sicilia e lì è riportata la classificazione dello stato ambientale a quella data oggi noi siamo in grado di aver siamo stati in grado di avere classificato completamente tutti i 30 corpi idrici e qui riportiamo solo a modo di esempio alcune diciamo elaborazioni riferite allo stato ecologico per gli EQB che sono specificatamente indicati un piccolo focus in particolare perché una specificità della Sicilia non solo della Sicilia ma sicuramente per noi lo è è la posizione oceanica perché abbiamo una realtà abbastanza diciamo consistente che è stimata intorno a 77 mila ettari di praterie che sono pari praticamente al 18,5 dei fondali compresi insomma qui sono indicati i dati relativi sono anche indicate le zone principali in cui queste praterie risiedono e su questo chiaramente per la caratterizzazione abbiamo evidentemente così utilizzato le metodiche di Ispra qui insomma sono riportate a modo di esempio riporto a destra la tabella perché perché per quanto concede le sezioni dell'habitat e quindi morfobatimetria e il limite della prateria noi abbiamo ritenuto opportuno con personale nostro così come dicevo prima e imbarcazioni nostre e strumentazione nostra caratterizzato il limite inferiore anche dal punto di vista morfobatimetrico e dal punto di vista del riconoscimento delle faces sia per quanto concerne il monitoraggio con size scan sonar e sia per quanto riguarda poi la verità mare con ROV qui riportiamo semplicemente alcune immagini della nostra strumentazione delle nostre imbarcazioni e dei nostri operatori che costituiscono un pool diciamo integrato tra geologi biologi con varie estrazioni chimici eccetera eccetera niente qui riportiamo l'aspetto morfobatimetrico un esempio sull'isola di Salina qui riportiamo il dettaglio del dato morfobatimetrico e qui riportiamo la face con size scan sonar e qui poi la verità mare della prateria queste ripeto sono attività che noi facciamo direttamente improprio e non ricorriamo a nessun tipo di servizio esterno queste sono le zone in cui maggiormente insistono prateria elevata densità che sono sostanzialmente a ovest nord ovest e a sud est dell'isola anche per le acque di transizione noi abbiamo credo 19 punti di campionamento quindi sono riportati alcuni perché non tutti sono stati ad oggi ancora classificati dal punto di vista ambientale e qui c'è riportata anche la classificazione specifica andiamo un attimo punti di forza anche qui ritorniamo diciamo alla slide dell'Arpa Veneto il primo punto di forza è sicuramente rappresenta una struttura che specificatamente richiude in sé tutte le competenze mare per noi ripeto questa è stata una delle cose fondamentali che ci hanno portato ad avere ad assumere un ruolo di una certa rilevanza in un contesto come quello della regione siciliana abbiamo una forte interdisciplinarità come dicevo prima perché sostanzialmente abbiamo circa 30 unità di personale all'interno della struttura fra vario livello per vario livello intendo dire sia dal punto di vista della tipologia di personale che utilizziamo cioè sì lo so cercheremo di pensare nei tempi altrimenti andiamo lunghi visto per condividere l'intervento con la sì sì capisco perfettamente però mi pareva cercherò il po' possibile di ripetere però tre minuti mi sembra un po' pochini quindi voglio solo chiedervi almeno altri cinque minuti di attenzione perché ritenevo fosse importante dare questo quadro complessivo perché i contributi di tutti i colleghi mi sembravano rilevanti portarli avanti questo era semplicemente per consentire a tutti di stare nei tempi semplicemente benissimo io ne prendo atto e chiedo cortesemente diciamo qualche cosa in più di questi tre minuti ok andiamo avanti non ci sono problemi andiamo avanti passiamo passiamo alla Sardegna anche la Sardegna è importante rilevare la complessità delle attività della Sardegna perché parliamo di quasi quasi duemila chilometri di costa con i punti che qui sono sostanzialmente indicati vengono indicati la tipologia di attività che vengono svolte è il punto un punto di forza che la Sardegna ha ritenuto opportuno di dover mettere in evidenza che è quello legato alla determinazione delle cubi macroalghe e in particolare del metodo Carliti che è fatto interamente all'interno della struttura senza ricorrere a servizi esterni e qui vengono riportate diciamo in termini più generali diciamo sia sia i rilievi dove vengono effettuati in continuo nell'area di Palau sia complessivamente nella zona di Pittolungo in cui questo non viene fatto di continuo ma a parte anche per quanto riguarda ecco qui vengono riportati il numero di campagne che è stato rilevato e sostanzialmente lo stato ecologico elevato è buono che nel caso del 60 che in questo caso del 60 è del 40% criticità anche qui indisponibilità di un mezzo nautico e carenza di personale specifico per le determinazioni per cui si necessita spesso il ricorso a ditte esterne acque di transizione anche per la Sardegna le acque di transizione sono un'attività importante e rilevante per tantissimi aspetti non solo per quanto concerne l'aspetto del monitoraggio ma anche per quanto guarda l'aspetto dell'interesse turistico nei confronti di questo tipo di realtà e qui possiamo evidentemente come dire vedere quello che viene quello che viene svolto da Acqua Sardegna lo stesso le stesse criticità bene o male sono presenti in questo contesto andiamo alla Puglia velocemente mi dispiace per il collega ungaro ma purtroppo la presentazione è lunga e i tempi sono ristretti anche qui ci sono quasi mille chilometri quasi mille chilometri di costa sono riportati 84 punti stazione è una realtà complessa Arpa Puglia è un'arpa che a mio avviso è veramente avanti dal punto di vista delle attività che vengono svolte quindi su questo saltiamo perché lo conosciamo tutti passiamo direttamente a una cosa specifica dell'arpa Puglia ecco che diciamo hanno voluto mettere in evidenza in questa presentazione è che sostanzialmente è legata all'utilizzo per quanto concerne le acque di transizione dei due indici che sono indicati dalla normativa per quanto concerne la classificazione la classificazione ecco come tutti tutti noi sappiamo gli indici sono due sono le Mambi del Biz qui sono riportate le tabelle indicate nel DM 260 con gli intervalli diciamo che poi ci danno la possibilità di classificare ecco Arpa Puglia in questi disponendo dei dati degli ultimi degli ultimi tre anni del periodo che va non degli ultimi tre anni del periodo che va dal 2010 al 2014 hanno diciamo elaborato con entrambi gli indici tutti i dati relativi alle acque di transizione è sostanzialmente quello che è stato visto è che da un lato entrambi gli indici esprimono sulla base diciamo dei limiti sulla base come dire i due indici sono statisticamente come dire presente una correlazione statisticamente significativa però come è possibile vedere dal grafico se utilizziamo l'uno o l'altro indice la classificazione dei corpi idrici varia questo è effettivamente come dire una una grossa criticità che è legata all'utilizzo dei due indici quindi da questo punto di vista il suggerimento che viene dato da parte di Arpa Puglia è quello che probabilmente l'utilizzo del BITS rispetto all'Mambi è qualche cosa che potrebbe come dire portare un vantaggio dal punto di vista della classificazione dei corpi idrici anche perché come tutti sappiamo basta semplicemente che solo uno degli indici e questo non vale solo per in questo caso specifico sia fuori che tutta la classificazione complessiva del corpo idrico vada fuori niente a questo punto scusatemi se sono andato fuori speriamo di avere occasioni nel proseguo diciamo di maggior possibilità di come dire di illustrare quello che le singole Arpa fanno perché ritengo sia fondamentale all'interno del sistema di protezione ambientale scambiarci le informazioni e le necessità probabilmente forse c'è necessario di avere qualche intervento un po' più ampio e passo la parola alla collega dell'Arpa Toscana che illustrerà la realtà della Toscana grazie grazie